ciao a tutti oggi vediamo come unire i fiorellini puff allora abbiamo visto come lavorare questo fiorellino col punto puff oggi vediamo come unire questi fiorellini tutti insieme per creare delle lavorazioni diciamo lo faremo durante la lavorazione quindi non alla fine con l'ago con l'uncinetto ma proprio durante la lavorazione di un altro fiore allora ho preso un altro colore e per farvi vedere meglio e sono andata a lavorare un altro fiorellino allora sono arrivato al quinto petalo ok ma non ho chiuso diciamo ho chiuso le asoline tutte insieme ma non ho ancora lavorato le due catenelle allora cosa devo fare allora prima di fare questo quindi andare a lavorare le catenelle tolgo un attimo l'uncinetto dal gappietto e prendo il primo fiore che ho lavorato ora dobbiamo praticamente andarli ad unire in questo modo quindi praticamente entro con l'uncinetto sulla punta quindi sulla prima catenella che ho lavorato quando ho lavorato questo questo petalo centrale proprio entrate centralmente e prendete il gappietto anche quello del fiore nuovo e lo tirate dentro in questo modo poi adesso andate a fare le catenelle 1 e 2 ora vado a lavorare la maglia bassissima sul punto successivo lavoro le due catenelle e vado alla realizzare un altro petalo col punto passo 1 2 3 4 e 5 prendo il filo e chiudo tutto ok anche qui prima di andare a lavorare le catenelle lascio il gappietto infilo l'uncinetto sull'altro petalo successivo del fiore lilla praticamente quindi questo e afferro il gappietto con l'uncinetto che lo porto dentro ora lavoro le due catenelle e vado a chiudere il giro con la maglia bassissima allungo il gappietto e taglio ok i due fiorellini sono attaccati adesso ne vado a realizzare un altro quindi ho realizzato una parte del fiorellino mi sono fermata al quarto petalo ok quindi ho lasciato il gappietto e vado adesso ad unire con gli altri due allora adesso devo unire questo non solo ad uno ma ad entrambi perché dovranno essere tutti attaccati insieme per cui entro facciamo finta che questa è la parte centrale diciamo nel fiore e questo il gatto quest'altro girano intorno quindi praticamente adesso vado a inserire il uncinetto su questo prendo il gappietto del l'azzurro e celeste e vado a chiudere con le due catenelle una e due ora mi aggancio con la maglia bassissima e riprendo la lavorazione con le due catenelle il punto puff ok chiuso tutto prima di andare a fare le catenelle in sgancio e vado praticamente adesso devo andare a unire qui questo punto per cui inserisco l'uncinetto sempre dove ho inserito prima in questo modo e vado a prendere il gappietto ok me lo porto dentro anche lui e vado a chiudere con le due catenelle una e due mi aggancio la maglia bassissima e riparto con le altre due catenelle una e due faccio il petalo 1 2 3 4 e 5 quindi chiudo e lascio anche qui e vado sull'ultimo petro da attaccare quindi questo prendo il filo cioè il gappietto scusate faccio le due catenelle e mi vado ad agganciare per chiudere proprio il giro al petalo successivo quindi quindi è bassissima allungo e taglio qui dovrò sistemare sempre i petali ed è fatta ok quindi d'ora in poi quando andrò a attaccare i fiori dovrò attaccare sempre tre petali in poche parole ok quindi due e tre ed ecco ho unito anche altri altri fiorellini per vedere insomma l'effetto che ne viene fuori e direi che con tanti fiorellini tutti colorati direi che è molto molto bello ok quindi anche questo video è terminato spero vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo ciao a tutti ciao